Sì, tipo magari un po' di vita... Puoi da vedere se ci hai detto... Quanto lo sentiamo? Beh, c'ho la guida di buchi. Ah, ok. Quella che hai visto prima. Karaköy, che è un quartiere che è diventato molto, diciamo, nei ultimi anni. È piena di barati locali per fare la serata. Dov'è? Praticamente tu sei taxi un po' più alto rispetto al livello di mare. Tu taxi, c'è il Beshittas. C'è anche il distoglio di... Galatasaray. Ah, il Beshittas. Ah, il Beshittas. È vero? No. Sì, il Beshittas. Sì, il Beshittas c'è anche quello a vedere lì. Comunque l'unico mare, c'è un bazar grande... Il Beshittas. È un bel bel bazar grande. Sì, è un bel bel bazar grande. Il Beshittas. Il Beshittas.